Un caloroso bentornato a tutti, qui il vostro Jacopo Piersantelli per un nuovo servizio del TG Crypto. Prima di iniziare ormai come d'obbligo ovviamente ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina per ricevere tutte le notifiche e restare sempre aggiornato sulle ultime news e ovviamente lascia un bel mi piace per sostenere il progetto. Detto questo passiamo all'immancabile e rapida visione di mercato prima di iniziare con le notizie che oggi spoiler alert sono veramente molto bullish quindi se siete un po' giù di tono vi raccomando questo servizio anche due o tre volte al giorno di riguardarlo perché vi risolleverà il morale. Diamo quindi uno sguardo a Bitcoin e Dollaro che in realtà nonostante vi abbia promesso un servizio molto ottimista iniziamo con una quotazione di prezzo che già dalla giornata di ieri ha visto un piccolo ritracciamento ma comunque arrivavamo da sei giorni di costante salita quindi beh ci sta tutto. E quindi giusto per sparare i due numeri la quotazione attuale al momento della registrazione di questo video è 11.396 dollari contro il precedente picco toccato l'altro ieri intorno agli 11.700 dollari mi sbaglio sempre con qualche zero in più o in meno con una perdita in percentuale rispetto alle ultime 24 ore dell'1.55% e passiamo quindi dunque a dare una rapida visione di mercato con Coin360 che ci propone un'istantanea abbastanza e maggiormente dipinta di rosso come ovviamente potevamo aspettarci con una perdita media della top 10 che va da almeno 1% o almeno 2%. E per concludere passiamo rapidi a fulmini sul settore della DeFi che riesce a superare uscire da quel range di cui parlavamo nel servizio precedente e arriva a avere un total value locked di 11 miliardi e 260 milioni quindi c'è stata una reintroduzione di capitali all'interno dei vari protocolli. Bene e detto questo passiamo alle news iniziando proprio con la previsione di Bitcoin ad un milione di dollari di quotazione secondo Raoul Pal Raoul Pal che già precedentemente citammo all'interno di un altro servizio del TG Crypto in cui riportammo sempre comunque delle previsioni molto positive nei confronti di Bitcoin è il fondatore di Real Vision Group e si definisce come un economista e stratega degli investimenti. Facendo ecco a ciò che riportammo nel servizio dell'Uniod anche secondo quest'altro eminente rappresentante dell'economia e del trading internazionale ci sarebbero tantissimi capitali derivanti dagli istituzionali quindi dai vari fondi di investimento, fondi pensione eccetera che sarebbero pronti ad entrare all'interno della capitalizzazione di Bitcoin. Lo stesso Raoul Pal infatti afferma che il suo portafoglio benché ovviamente contenga azioni, titoli eccetera per il 50% è composto da Bitcoin. Secondo Raoul Pal la teoria sostanzialmente è sempre quella sempre più società a diciamo così controbilanciare i rischi dell'inflazione per quanto riguarda le valute fiat vedono in Bitcoin una nuova riserva di valore un oro digitale nel quale andarsi a riparare nei momenti critici e questo nel largo di 5 anni e secondo lui dovrebbe portare la quotazione di Bitcoin ad un milione di dollari. E proseguendo con il servizio andiamo proprio a vedere queste istituzioni che continuano a mettere i soldi su Bitcoin. Sto infatti parlando di Stone Ridge un famosissimo fondo di investimenti statunitense che sulla scia di MicroStrategy e Square indovinate un po' ha deciso anche lui di acquistare una sostanziosa fetta di Bitcoin stiamo parlando di ben 10.000 BTC. La società ha concluso l'accordo sborsando quindi circa 115 milioni di dollari e tutto ciò è avvenuto con una strana concomitanza di tempi con l'annuncio che probabilmente nel 2021 la Federal Reserve statunitense stamperà ben 5.000 miliardi di dollari. Questo ovviamente andrebbe a convalidare la teoria precedentemente detta e precedentemente detta in altri vari servizi secondo cui Bitcoin ormai sarebbe quasi per elezione l'asset digitale di riserva e protezione nei confronti per l'appunto di queste politiche monetarie. Proseguendo con il servizio invece andiamo a parlare del nuovo report rilasciato da JP Morgan il quale ci fa sapere che a loro avviso sempre più società dedicate al settore dei pagamenti online o applicazioni andranno a fornire servizi di vendita diretta di Bitcoin. Il nuovo report quindi sostanzialmente segue sulla scia l'intervento di Square che tramite la sua applicazione mobile che si chiama Cash App permette da già al 2018 di acquistare Bitcoin ed è uno dei principali veicoli utilizzati dai millennials negli Stati Uniti. Secondo JP Morgan quindi questa tendenza che riguarda per l'appunto PayPal, Venmo eccetera sarà in crescita e quindi anche questa applicazione e tante altre seguiranno l'esempio di App Cash e forniranno la vendita di Bitcoin. E non è una cosa molto strana perché in realtà per quanto riguarda PayPal e Venmo negli Stati Uniti ne parliamo già qualche servizio fa che c'erano dei rumors di possibile partnership con Paxful partnership con Paxful per la vendita diretta e custodia di criptovalute che è già avvenuto in realtà sempre negli Stati Uniti con Revolut che dietro le quinte come riportammo ieri e scusatemi ieri e lunedì nello scorso servizio sta comunque lavorando sempre più per cercare di integrare servizi che abilitano i già 13 milioni di utenti che utilizzano Revolut con il vario mondo degli asset criptografici. Insomma quindi oltre i vari rumors che lasciano il tempo che trovano sicuramente un report di JP Morgan che presumo sia sicuramente più informato già dall'interno sicuramente di me e va insomma un pochettino ad avvallare quella che potrebbe essere una tendenza e quindi una possibilità di acquisto di Bitcoin sempre più facile. Ma passiamo oltre perché andiamo a parlare di un ulteriore report rilasciato da un altro colosso finanziario statunitense e sto parlando di Fidelity Investment. Anche secondo quest'altra famosissima istituzione finanziaria statunitense se ci sarebbero sui blocchi di partenza milioni se non miliardi di dollari pronti a fluire nella capitalizzazione di Bitcoin. Stando infatti al loro ultimo report Fidelity Investment andrebbe a paragonare Bitcoin come alle azioni di frontiero dei mercati emergenti negli anni 80-90 quando sostanzialmente ovviamente promettevano queste azioni dei rendimenti, dei ritorni di guadagno molto più elevati rispetto ai mercati tradizionali però ovviamente venivano sempre guardate con una certa ostilità vista la loro enorme volatilità come per il caso di Bitcoin e la loro piccola capitalizzazione. Nel corso del tempo però visto i rendimenti degli altri diciamo così mercati che andavano a ridursi gli istituzionali, i vari fondi di investimento, fondi di pensione, family officer eccetera hanno sempre piano piano dovuto integrare una parte maggiore allocare qualcosina in più su questi strumenti un pochettino rischiosi e secondo Fidelity Investment ora Bitcoin si sta riproponendo come una sorta di mercato emergente 2.0 sebbene quindi ancora ci siano comunque molti reticenti molte perplessità da parte di moltissime istituzioni nell'investire in Bitcoin per mille e mille motivi vedi la volatilità, vedi il mercato giovane eccetera è in dubbio come riportato nei precedenti news di questo servizio e nei precedenti servizi che qualcosa si sta muovendo e la strada si sta sempre più spianando secondo Fidelity Investment infatti ci sarebbero 50 trilioni di dollari all'interno del mercato obbligazionario che non rende ormai più tantissimo quindi paragonando Bitcoin a queste azioni di frontiera che potrebbe essere una sorta di sostituto se anche solo l'1% di questi 50 trilioni di dollari andasse su Bitcoin beh la sua capitalizzazione sarebbe di 500 miliardi di dollari fate poi voi i conti oltre ciò Fidelity Investment fa comunque notare che attualmente ci sono un sacco di investitori retail quindi non investitori professionali i famosi istituzionali che detengono e continuano a detenere Bitcoin perché il numero di wallet che sono arrivati a superare 10 Bitcoin all'interno è cresciuto quindi le persone lo hanno, non lo vendono e continuano a comprarlo ma andiamo avanti con il nostro servizio andando a parlare della ricerca fatta da parte di BitMEX Research nei confronti di Brain Wallet secondo lo studio fatto dal famoso exchange di derivati per le criptovalute i Brain Wallet non sarebbero la soluzione migliore per costudire i propri Bitcoin per chi non lo sapesse i Brain Wallet altro non è che la possibilità di custodire sostanzialmente una chiave privata e pubblica all'interno della propria memoria facendo sostanzialmente l'hash di una frase che si conosce generalmente i wallet ci propongono loro stessi una chiave di recupero o comunque una chiave privata che però è una stringa di lettere e numeri casuali difficilmente memorizzabile ma tramite il Brain Wallet noi potremmo sostanzialmente creare la nostra chiave privata partendo da una frase nota ad esempio non so il ritornello di una canzone o una frase di un film che ci piace oppure non so un passo della Divina Commedia questo però fa sapere BitMEX ovviamente non è il migliore sistema la colpa non è tanto ovviamente di Brain Wallet che in sé sono semplicemente uno strumento ma più che altro del nostro cervello che non è in grado di generare molta entopia e quindi molta casualità pertanto in realtà queste queste frasi diciamo così queste chiavi private generate da frasi molto conosciute sono molto facilmente acchierabili e loro hanno fatto un test prendendo praticamente alcuni la prima frase di Moby Dick piuttosto che alcuni passi del White Paper di Bitcoin o alcune canzoni di Bob Dylan hanno provato a fare questi wallet ci hanno messo dentro dei Bitcoin e alcuni nel giro di neanche un secondo sono stati violati e i soldi sono stati rubati dimostrazione che ci sono sostanzialmente dei bot che tentano di violare gli indirizzi Bitcoin cioè scusatemi i wallet Bitcoin che ancora sono solo nelle mempool nemmeno transazioni confermate per cui fate sempre molta attenzione è un aspetto che solitamente le persone ci passano sopra Bitcoin è responsabilità siamo noi la nostra banca tenete le vostre chiavi avete i vostri Bitcoin però le chiavi devono essere solide proseguendo invece ci spostiamo in Italia perché il progetto spunta quello promosso dall'associazione bancaria italiana Avilab in collaborazione con NTT Data e SIA praticamente si sono aggiunte ulteriori 42 banche raggiungendo quindi un totale di 100 istituti bancari che collaborano per far sì quello che sostanzialmente è la riconciliazione bancaria per fare questo hanno utilizzato la soluzione permissioned corda fornita da R3 Enterprise andando avanti con il servizio ma restando in tema di banche riportiamo anche il via per quanto riguarda il proseguimento dei lavori per la creazione di una central bank digital currency in Europa e in Russia quasi come in una gara ciclistica a distanza di un giorno l'una dell'altra sia la banca centrale europea che la banca centrale russa hanno avviato una consultazione pubblica sui loro vari siti per cercare di capire e indirizzare anche le idee o comunque le opinioni che potrebbero avere poi i fruitori cioè i cittadini quelli che potrebbero utilizzare tutti i giorni queste central bank digital currency cosa ne pensano cosa si aspettano come la vorrebbero ovviamente vi lascio i link per quanto riguarda quella europea quella russa non penso che i miei spettatori se ne preoccupino e se volete partecipare anche voi ovviamente a questo sondaggio potete dire la vostra e potete far sapere insomma almeno in parte ovviamente la vostra opinione passiamo ora invece ovviamente alla rubrica di cronaca perché ci deve essere sempre qualche furto se non è un vero TG crypto e quindi riportiamo il fake diciamo così l'aggiornamento fasullo di Electrum che ha portato al furto di diversi bitcoin non è un problema nuovo già Electrum era stato affetto da queste problematiche anche in precedenza e sostanzialmente gli utenti che hanno scaricato una versione vecchia di Electrum gli appare il pop up di installare l'aggiornamento in realtà è un pop up fake che dà praticamente l'accesso al portafoglio degli hacker degli utenti malintenzionati che poi ovviamente rubano tutto il malloppo in un istante per cui sempre molta attenzione Electrum di per sé non è un wallet pessimo non ci mancherebbe però scaricatelo dalla fonte originale guardate sul sito ufficiale mi raccomando state attenzione scaricatelo da lì evitate repositori vecchie eccetera perché poi succedono queste cose e prima di lasciarvi vi riporto anche al volo l'annuncio per quanto riguarda l'aggiornamento ormai forse per dicembre forse del prossimo anno di un nuovo Bitcoin Core che supporterà oltre a diverse migliorie e risoluzioni di diversi bug anche gli indirizzi V3 di Tor per migliorare sempre e per avere quindi sempre una migliore privacy detto questo signore e signori io vi ringrazio per l'attenzione spero questo servizio vi sia piaciuto mi raccomando usatelo anche un po' come antidepressivo soprattutto per gli holder quelli un pochettino più tosti quelli duri e puri che ogni tanto hanno bisogno di un pochettino di sostegno morale e detto questo vi aspetto ovviamente alla prossima puntata che sarà venerdì vi ringrazio per l'attenzione non mi sa che l'ho già detto quindi like mi piace commento condividete e buona giornata